Uomini e donne sullo stesso piano quando si parla di diritti, sembrerebbe ovvio, logico e giusto. Sembrerebbe. La realtà è ben diversa, la differenza di stipendio sfiora infatti il 20%. Così accade in Europa, così accade anche in Alto Adige. È immaginabile che due persone che fanno lo stesso identico lavoro ricevano due stipendi differenti? Ovviamente tutti rispondiamo di no, eppure questo ancora oggi accade. La differenza di stipendio tra uomo e donna a parità di lavoro è di circa il 17%. Questa è una differenza da rimuovere assolutamente se vogliamo assicurare alle donne e agli uomini la vera piena pari opportunità. Per richiamare l'attenzione sulla cronica disuguaglianza tra i sessi, nel 2010 la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità e il Servizio Donna hanno portato in Alto Adige l'iniziativa europea Equal Pay Day, arrivata alla quarta edizione. Simbolo del giorno per un'equa retribuzione sono le borse rosse, che rappresentano i conti correnti in rosso delle donne. Le differenze salariali tra uomini e donne incidono pesantemente anche sulle future pensioni. Per questo l'Equal Pay Day 2013 si concentra sul tema pensione, una situazione che spesso rischia di essere vergognosa. La vergogna è che le donne ricevono una pensione che è circa la metà di quella di un uomo. La vergogna è che il 50% delle donne ha meno di 500 euro al mese, delle pensionate, vive con 500 o meno euro al mese e solo il 10% di tutte le signore che ricevono una pensione possono avere più di 1000 euro al mese. La situazione per gli uomini è totalmente opposta, nel senso che il 90% invece degli uomini ha una pensione comunque dignitosa. Per cui si tratta di una problematica molto complessa e molto importante, perché avere una bassa pensione significa correre il rischio di povertà in età adulta, in età avanzata. Venerdì 19 aprile è stato organizzato il convegno Il lavoro delle donne e la sfida del futuro, che si terrà dalle 14.30 alle 17.30 nel cortile interno di Palazzo Widman. Nella mattinata del 20 aprile nei principali centri della provincia di Bolzano verranno allestiti 27 stand informativi. La causa, sono diverse cause, innanzitutto le donne lavorano spesso in settori che vengono retribuiti meno, per esempio nel settore delle pulizie, le donne però chiedono anche meno retribuzione, spesso le donne si accontentano di avere un posto di lavoro o di avere anche un posto part time, che chiaramente sono molto rari, per cui dicono io sono contento se posso lavorare metà della settimana e il resto posso stare a casa. Poi chiaramente il lavoro che le donne svolgono per la famiglia e per la cura, lì chiaramente se non lavorano non hanno retribuzione e questo vediamo soprattutto nelle pensioni, dove la differenza è del 47%, quindi una somma enorme e ciò vuol dire che le donne in futuro non hanno più la pensione minima, ricevono la pensione solo in base a quello che hanno contribuito, che hanno quindi pagato e vuol dire che le donne in futuro sono veramente in crisi e devono vedere come riuscire a sopravvivere. Il servizio donna della provincia di Bolzano mira a sensibilizzare l'intera popolazione su questa incredibile disparità di trattamento tra uomo e donna. Le iniziative spaziano a 360 gradi. L'impegno della provincia è quello di sensibilizzare tutta la popolazione, soprattutto i datori di lavoro, nel senso che vadano retribuite le donne allo stesso modo degli uomini. Abbiamo infatti constatato che la differenza nella retribuzione è al 17% in media e questo vuol dire che il lavoro, lo stesso lavoro non viene pagato in modo uguale, per cui abbiamo qui una forte discriminazione ed è appunto l'obiettivo della provincia di superare questa discriminazione affinché la retribuzione sia per lo stesso lavoro uguale per tutti quanti. Il materiale informativo che verrà distribuito agli stand e ulteriori informazioni sull'Equal Pay Day sono disponibili sulla home page della Commissione Provinciale per le pari opportunità e del servizio donna all'indirizzo www.provincia.bz.it slash pari opportunità.